Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, ultimo giorno della sesta settimana faremo le gambe. Ebbene, è venerdì, oggi alleniamo gambe e addominali. Prima però andiamoci a pesare. La prima serie che faremo, cioè il primo esercizio che faremo sono gli squat con, sentite bene ragazzi, 70 kg. Assurdo, da 66 a 70, io non so onestamente se ce la faccio, potrei rimanerci anche sotto, non mi interessa, voglio provarci. Voi non fatelo perché allenatevi un po' in modo responsabile, non prendete sempre da me perché vi troverete sempre male nella vita. Vabbè, cominciamo con la prima serie, prima andiamoci a pesare. Grazie a tutti. Finalmente ragazzi ci siamo riusciti. Abbiamo superato i 60 kg. Ovviamente massa grassa 13.7, non so se la vedete, ecco qua, 13.7 ragazzi, una cosa assurda, altissima. Ovviamente rispetto allo scorso episodio siamo saliti di 1.3 kg e abbiamo preso il 0.7 di grasso che al corporeo. Cioè in un giorno abbiamo preso un chilo e mezzo quasi, assurdo. perfetto. Ok ragazzi, quarta serie fatta, ovviamente molto sofferta. Adesso secondo esercizio squat 3 serie per 8 ripetizioni, ragazzi, con 10 kg con il bilanciere AZ. 3 serie per 8 ripetizioni, ragazzi, 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 ragazzi. Ho fatto anche questo. Ogni volta questo esercizio è un disastro per me. Rischio di uccidermi ogni volta che lo faccio. Non so, magari voi potete consigliare anche qualche esercizio da fare per i quadricipiti. Visto che questo proprio non lo voglio fare bene, certo. Rischio di uccidermi qualche giorno e non vedrete più video, buh, non lo so, non c'è alternativa. Consigliatemi qualche esercizio per i quadricipiti. Noi ci vediamo con il terzo esercizio, ovviamente faremo la Rack Station 44 kg, 44 kg, aumentiamo di 2, ovviamente per 10 per 4 serie. 10 ripetizioni, poi c'è un'altra parte. 3. 4. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 11. sempre con 30 kg, anzi 32 kg ovviamente, finite le gambe, faremo i polpacci devastanti ragazzi, i 34-32 kg alla leg, si sentono adesso polpacci, 60 kg, calf machine, 3 serie, 15 reps, let's go ovviamente, ultimi sforzi ragazzi, gli addominali e bene, addominali, faremo come primo esercizio, sit up, 3 serie, 20 reps secondo esercizio dovremmo avere la bicicletta cambiamo il esercizio e faremo un crunch laterale, però, quello è così crunch laterale, un lato per volta con gamba alzata 3 serie per 15 lato non potete capire non potete capire quanto è duro lato è passato durissimo è mortale questo esercizio grazie ultimo esercizio esercizio reverse crunch 3 per 15 le ripetizioni ragazzi io sono morto sono morto ebbene ragazzi allenamento distruttivo adesso vi lascio a check fisico ci vediamo settimana prossima con un nuovo episodio vada ragazzi qui non 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 Grazie a tutti.